che ce l'ha mandato una preview, quindi un'anteprima, ce l'abbiamo in via ufficiale grande Dax, DJ Dax Tais preview, è un preascolto internal Eclipse Records poi magari la prossima puntata o tra due puntate con più calma vi facciamo ascoltare tutta la traccia interamente quindi lo dedico a mio amico Dax che tra l'altro siamo amici da tanti tanti anni e niente ci siamo trovati anche a Barcellona, siamo andati anche in giro per Barcellona insieme quindi è in ascolto dalla Francia se non erro perché adesso lui vive in Francia quindi ve la faccio riascoltare dall'inizio, DJ Dax Tais preview, Eternal Eclipse Records dura solo un minuto ma ve la faccio ascoltare con il cuore del mio amico DJ Dax con il quale tra l'altro abbiamo anche suonato insieme in quel appunto di Predazzo tre anni fa nel 2015 grazie a tutti 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 un centinaio di giorni fa, l'11 giugno ha pubblicato questo disco, si chiama The Air Ibrief, l'aria che...